e ciao a tutti ragazzi sono l'unico e solo e siamo finalmente tornati su minecraft voglio provare a fare un mondo non so se avete capito quello che ho appena scritto cioè ho scritto 1.0 non so se avete capito ma lo capirete ben presto innanzitutto già il fatto che sia solo in inglese e non ci sia in italiano dovrebbero farvi pensare esatto ragazzi siamo nella primissima versione di minecraft non proprio primissima perché da quello che avevo visto era cioè non avrebbero dovuto interesserci le baghe del cibo però ci sono a meno che non sia tipo stata una cosa che è stata aggiunta dopo alla versione originale di minecraft ma di fatto in teoria non dovrebbero esserci queste però vabbè chiamiamo un po' le mucche facciamoci un po' di cibo come al solito intanto in questa versione guardate il cibo com'è cioè c'ha le ombre il cibo comunque raga siamo nella prima versione di minecraft non so quanto effettivamente prima perché comunque ve l'ho detto e infatti il mio computer non la regge perché di solito ho abituato con la 1.12 o 1.13 non con la 1.0 raga ho messo 1.0 proprio cioè la primissima cioè la più vecchia che questo come si dice che mi ha trovato e infatti come vedete ci sono parecchi errori grafici nel senso tipo gli alberi sono fatti completamente a caso con delle ombre a cazzo cioè ma cosa è st'ombra? cioè poi d'altro dovete vedervi tipo tutto qua in zona com'è cioè ragazzi lo vedete già dalla grafica che è molto strano e dal fatto che mi laghi un botto proviamo tipo a perdere un po' di fame vediamo se effettivamente me la toglie la fame oppure no cioè io sto spintando intorno dove dovrei perdere un botto di fame ma non me la vuole assolutamente perdere ah no me la perde boh non capisco raga apro l'inventario 20 anni tipo devo farmi il crafting qua no magari tipo prendo tutta la legna e ci faccio i blocchi crafting table come al solito e ci costruiamo la prima casetta nell'1.0 quindi mi servono tipo gli stickettini mi faccio una bella ascia se mi ricordo ovviamente come si fa andiamo a spaccare un po' di legna e ci facciamo la nostra casa nell'1.0 ragazzi non credevo mai di riuscire a giocare in una versione del genere certo io ho dei seri dubbi che sia proprio la 1.0 cioè è fatta troppo bene per essere lei cioè nonostante tutte le cose allora già guardiamo tipo Steve e Steve è il solito no cioè tra l'altro già si capisce che al 1.0 ha fatto che ho Steve perché io di solito come personaggio predefinito non ho Steve ma Alex cioè io se gioco tipo una versione normale infatti se vedete tipo i miei vecchi video io avevo Alex non avevo Steve perché mi piaceva di più Alex infatti usavo usavo lui lei perché curiosità se non lo sapeste Alex non è un lui ma una lei eh sì Alex è donna non ci avreste mai pensato probabilmente sarete scossi dopo questa cosa specialmente perché tutti avevano pensato no vabbè ma Alex è femmina c'era maschio è palese palesissimo è una mazza visto che è femmina già qua non c'è l'auto jump cosa che invece io di solito tengo perché se no mi scazza un botto ogni volta a farmi tutti i salti tipo come vedete non salta automaticamente ma devo saltare io se no vedete raga compratevi degli occhiali perché è palesissimo vabbè andiamo a spaccare un po' di legna un po' altra legna intanto picchiamo quella quella povera mucca che non ha fatto niente di male ma è qua quindi me la devo pigliare che cazzo sai vieni qua brutta strozza vieni qua mica come va agile nell'acqua oh cibo 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 cibari cibo così mi creo la prima casetta mangio qualcosa fatto con questa versione se tutto va bene dovrebbe essere ancora aerobrine certo io non credo che lo vedo in questo episodio cozzare o si lag è una versione che lagga un casino perché come vi ho detto prima il mio computer è abituato alla 1.12 barra 1.13 e tutti i suoi derivati quindi 1.12.2 1 quel cazzo che volete cioè guarda tranquilo finisco la casa tra tutti i lag e vi raggiorno già non c'è l'auto inventory cosa che mi scazza parecchio qua ad esempio questa versione le porte le porte quando le costruisci non sono più 27 come nelle altre versioni ma è una cosa molto ma molto bella perché di solito me ne da 27 mi da 27 porte invece adesso mi da soltanto una grazie al cielo e aspetterei la notte se arriva vabbè quindi niente io aspetto la notte e ci ragioniamo quando è notte ok raga finalmente dopo tipo anni d'attesa sta venendo notte tanto mi sono accorto mentre cazzeggiavo che laggiù c'è un bug grandissimo dei blocchi nel nulla qui sono dei blocchi nel nulla mi fa un sacco piacere voglio vedere che bestie c'erano nella 1.0 sono curioso perché io non sono mai andato oltre a 1.11 penso perché nella 1.11 ci giocavo un po' di tempo fa per cazzeggiare ma niente di che no ho già visto un creeper e un ragno che sono identici mi sa tipo uno scheletro un pieno di creeper raga ho pieno zeppo di creeper no no all'algiù non ce la scherzavo per il totale c'era 1 e dove sono andati a finire gli altri ma raga giuro giuro venne vista un po' e spero che l'abbiate visti anche voi raga comunque invece questa non è una novità le costruzioni un po' fatte male su minecraft cioè qua potevano anche tipo la giusta ok scherzare ci sono mancano soltanto gli zombie dove sono gli zombie zombie all'appello oh ci sono tutti scherzo però è un po' troppo vicino sperando che non sia abbastanza vicino neanche il creeper spero che sia abbastanza vicino ma nel dubbio non mi nascondo in casa mi sono appena auto dimostrato che non mi ricordo più un crafting ma neanche uno cioè no vabbè qualche crafting me lo ricordo anche perché prima l'ho fatto abbastanza velocemente i miei crafting però boh sono troppi po' di critic mi ricordo dove sono tutte le bestie minchia quanta gente tu devi morire stupido zombo vediamo cosa mi da lo zombo se lo uccido niente non mi da proprio niente vediamo se è uccido un altro magari quello lì era un po' sfigatello non aveva niente era un po' boberaccio identifica il tuo gioielliere adesso dammi tutti i tuoi gioialli stupido zombo vabbè dà la carne in marcia anche lui va bene raga direi che per questo episodio è tutto spero che il video vi sia piaciuto se non vi è piaciuto raga date a giocare anche voi la 1.0 ditemi se potete fare qualcosa di meglio io sinceramente preferisco saltare come hai dicevo un creeper dietro maledizione stavo per morire e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti